La spirale dei prezzi del gas, giorno dopo giorno, sta diventando un'emergenza insopportabile per il bilancio delle famiglie del ceto medio e per la produzione di alcuni settori industriali che rischiano di sospendere la loro attività, con un grave danno per l'economia continentale, per la capacità produttiva del nostro continente. Per questo bisogna assumere iniziative coraggiose. Lo state facendo, dovete farlo ancora di più, signora Commissaria, con un intervento sui meccanismi di formazione dei prezzi, tema molto scomodo, ma che va affrontato, oggi ancorati al prezzo marginale del gas, con una spirale che alla fine non ha più alcun riferimento al sottostante, cioè al valore di scambio della merce. Dobbiamo avere il coraggio di intervenire a livello europeo, cioè di unione intera su stoccaggi e acquisti comuni, se vogliamo ridurre la dipendenza e vogliamo ridurre i costi. E dobbiamo trovare risorse, perché questi non sono interventi a costo zero. E se le risorse non sono nel bilancio, dobbiamo trovarle in meccanismi come quello di Shuar, che hanno avuto una buona rispondenza del mercato e hanno dato un po' di ossigeno all'iniziativa degli Stati membri. Grazie mille, grazie mille, grazie mille.